Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, tra Firenze Scandici e Firenze Sud, 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto al km 300. Al momento si transita sulla corsia di marcia lenta. Ci sono poi rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per traffico intenso. Sulla Fipilì in direzione Mare, code per lavori tra la Strassinia e Ginestra Fiorentina. In A12 segnalati i lavori in direzione Genova, tra la barriera di Rosignano e Pisa Centro, fino alle 22 di stasera. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano, in direzione Grosseto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!